Quando riguarda la nostra regione, la Lombardia, che è la regione più grande d'Italia, con le sue 11 province, è tra le regioni più avanzate d'Europa, è una regione che ha gli stessi valori che abbiamo noi. È la regione della efficienza, della concretezza, della generosità, del rispetto verso gli altri, del spirito imprenditoriale. Sono i nostri stessi valori e quindi noi arriveremo certamente a portare in Lombardia delle persone di grande esperienza nella vita, nel lavoro, persone che abbiano dimostrato con i fatti di saper realizzare i risultati che si erano prefissati. Quindi i Lombardi, ne sono sicuro, sceglieranno la nostra efficienza, la nostra concretezza, la nostra serietà, sceglieranno soprattutto quello che è il valore che li sostiene tutti, che è la libertà. Grazie a tutti quanti augurandovi anche buon voto in Lombardia.